Sarà possibile secondo voi creare dei nuovi smalti a partire dai quelli che abbiamo a casa? Chiaramente sì, vediamo come. Bentornati e bentornati per un nuovo video sulla ceramica. Oggi utilizzeremo quattro smalti, o meglio tre smalti e una cristallina. Uno smalto rosso, uno smalto giallo, uno smalto bianco e una cristallina semitrasparente per creare uno smalto rosa, uno smalto arancione e una cristallina semitrasparente verde grazie all'ossido di cromo. Rimanete con me fino alla fine perché vedremo i risultati di questi smalti cotti in solo 30 minuti nel fornetto magico. Avviciniamoci e vediamo un poco come creare i nostri nuovi smalti. Allora, come preparo il rosa? Prendiamo due parti di slattre, ovvero lo smalto bianco apiombico della colorobbia. Poi prendiamo una parte di cristallina trasparente, la clattre sempre della colorobbia. Ed infine prendiamo una parte di smalto rosso apiombico della colorobbia, vi lascio le sigle nella descrizione. Misceliamo un po' gli smalti e andiamo a inserire l'acqua. E misceliamo per bene. Una volta che avete miscelato per bene lo smalto possiamo fare la prova dell'unghia come vi ho fatto vedere nel video sulla preparazione degli smalti che vi lascio qui. Se il risultato ci piace lo smalto è pronto così oppure possiamo aggiungere un poco di acqua per renderlo meno coprente. Per lo smalto arancione prendiamo una parte di smalto giallo, una parte di smalto rosso, preferibilmente dentro, e mezza parte di cristallina trasparente per renderlo un po' meno coprente. Versiamo anche qui l'acqua e iniziamo a miscelare. Una volta miscelato facciamo la prova dell'unghia e se ci va bene ci fermiamo qua. Per preparare la nostra cristallina trasparente verde iniziamo con lo sciogliere la cristallina trasparente. Poi inseriamo un poco d'acqua. Misceliamo. Procediamo alla prova dell'unghia. Mi sembra troppo poco coprente quindi andrò a inserire un altro poco di polvere e continuo a miscelare. Questa volta ci sono quasi poco poco troppo coprente questa volta quindi aggiungo un gocciolino d'acqua e sarà pronta. Voilà. Adesso vado ad aggiungere l'ossido di cromo per renderla appunto verde ma quanto ne metto? Ne metto pochissimo alla volta anche perché l'ossido di cromo è molto coprente quindi ne prendo un pochino e lo verso nella cristallina e agito per bene. Quello che voglio ottenere è un verde pisello molto tenue in questo modo qui. Abbiamo creato uno smalto arancione, uno smalto rosa e una cristallina trasparente verde aggiungendo l'ossido di cromo. Vi ricordo che potete anche aggiungere altri ossidi alla cristallina trasparente per ottenere altre colorazioni. In questo caso andrò a smaltare appunto tre mattonelline in argilla bianca. Tra l'altro uno dei prossimi video sarà appunto su come creare le mattonelline e quindi le andrò a smaltare una per ogni smalto. E la cosa bella è che grazie al fornetto magico io potrò avere risultati in soli 30 minuti e quindi decidere qual è lo smalto poi che voglio utilizzare diciamo magari in serie per produrre più oggetti. Ho smaltato le mie tre piastrelline, adesso aspettiamo che si asciughino e poi le andiamo a cuocere nel fornetto magico. Adesso che i pezzi si sono asciugati li posiziono nel fornetto magico e andremo a cuocere per 30 minuti a 800 watt e vedremo come usciranno. Rieccoci qui dopo 35 minuti di cottura e non sono uscite belle ma bellissime, ve le faccio vedere da vicino. Eccoli qui, arancione, rosa e verde. Fantastici! Avete visto come è stato super semplice creare dei nuovi smalti a partire da quelli che abbiamo quindi senza comprarne altri abbiamo un po' mischiato quello che avevamo e abbiamo ottenuto dei risultati bellissimi. Possiamo sperimentare con qualsiasi cosa abbiamo, ossidi, smalti, cristalline, questa è la cosa bellissima della ceramica. E la cosa veramente bella è che il fornetto magico ci ha permesso in soli 30-35 minuti di testare i nostri smalti e vedere come escono effettivamente. Vi lascio come al solito in descrizione i link sulle ricette di questi smalti, il link per poter acquistare il fornetto magico. Se vi è piaciuto questo video mettete un like, condividete ma soprattutto iscrivetevi al canale che a me mi fate un favorone. Ci vediamo prestissimo con un nuovo video sulla ceramica. Ciao!